Buonasera, cerco di dirvi in pochi minuti perché non mi convince la parte fiscale del decreto cosiddetto Cura Italia, in maniera tale da essere molto semplici. Prendiamo subito il titolo di questo decreto fiscale. Il titolo è Voi non siete nulla, noi agenzie delle entrate siamo tutto. Cosa hanno deciso? Ed è una cosa tecnica ma fondamentale per farvi capire lo spirito dell'agenzia delle entrate. Coloro che hanno fatto la dichiarazione dei redditi nel 2015, alla fine del 2020, vedrebbero andata in cavalleria questa dichiarazione dei redditi perché è più o meno prescritto l'errore che hanno commesso, se ne hanno commesso alcuni. Bene, l'agenzia delle entrate in questo decreto, in pieno di emergenza, cosa ha detto? Che verrà prescritta con due anni in più la vecchia dichiarazione del 2015. Probabilmente siccome in questi 20 giorni, un mese, l'agenzia delle entrate non sta lavorando a pieno ritmo, si sono presi due anni, due anni in più per controllare la vecchia dichiarazione del 2015. Il principio è questo. Se questo principio fosse valido dovremmo togliere parte dello stipendio ai dipendenti dell'agenzia delle entrate perché in questo momento non stanno lavorando. Ma in realtà il principio è sempre il solito, quello del solve, repete, loro comandano e voi siete degli schiavi. Dal punto di vista, diciamo, ideologico questo è il principio che conosce bene e chiunque abbia a che fare con il fisco. Dal punto di vista tecnico, cosa hanno fatto? Ci sono due categorie, diciamo, di aiutati. Coloro che hanno meno di 2 milioni di fatturato e coloro che si trovano, si parla dell'11% delle aziende italiane, 16 filiere importanti, 11% delle aziende italiane, che si trovano nei settori cosiddetti a rischio, individuati a rischio. Bene, per costoro c'è il rinvio, il rinvio del pagamento dell'IVA e dei contributi e delle ritenute fiscali che hanno fatto nei confronti dei loro dipendenti a febbraio e quindi le avrebbero dovute pagare il 16 marzo e gli dicono le pagate a maggio. Quindi sia molto chiaro. Cosa hanno fatto? Hanno semplicemente dato un rinvio di due mesi per fare qualcosa che queste aziende comunque fra due mesi dovranno fare. Quindi non si tratta per lo Stato di un costo, se non un piccolo costo finanziario. Quindi dei 25 miliardi questo rinvio vale zero. Cioè nel decreto fiscale il vantaggio per le piccole e medie imprese di rinviare due mesi pagamenti che comunque dovranno fare a maggio è pari a zero. Non c'è nessun aiuto fiscale. Semplicemente gli si è detto tenetevi un po' di liquidità per pagare gli stipendi e per pagare la sopravvivenza in un momento in cui le aziende non fatturano nulla ovviamente. Poi c'è una seconda questione. Pensate un po' voi al milione e mezzo di cosiddetti più deboli. Quelli che oggi hanno la flat tax, i forfettari, quelli che arrivano fino a 65 mila euro ma spesso ne hanno 10, 15, 20 mila euro di fatturato massimo. Per loro questo decreto fiscale vale zero perché non pagano IVA e in genere non hanno dipendenti quindi non gli rinviano assolutamente nulla, una ceppa. Insomma un decreto fiscale che dal punto di vista delle piccole e medie imprese vale zero. Per le grandi imprese, quelle che hanno molti dipendenti e non si trovano nei settori in difficoltà ma tutta l'economia è in difficoltà, quanto vale questo decreto fiscale? Zero. Perché anche loro non possono detrarsi nulla. Ma poi c'è un'ultima questione e c'è questo aiuto dei 600 euro alle partite IVA. Io questa mattina nella Zulpa ho detto beh comunque ragazzi non sputiamo sopra 600 euro. ovviamente ci sono partite IVA a cui cambia poco e ci sono piccole partite IVA comunque 600 euro sono un aiuto se non altro per fare la spesa. 600 euro per una partita IVA nette sono 1200 euro fatturate. È così che funziona. Qualsiasi reddito perché ci sono anche i contributi. Meglio di nulla. Poi vengo a scoprire e me ne scuso perché non l'ho detto bene questa mattina e anzi stamattina ho anche fatto qualche battuta su Crosetto che invece mi sembra avesse ragione lui e cioè che chiunque iscritto un ordine professionale, giornalisti, geometri, tutte queste robe qua non ha diritto ai 600 euro. Allora è pazzesco se così fosse. Cioè i 600 euro vanno solo a coloro che sono iscritti alla gestione separata dell'Inps. Se così fosse vorrebbe ridurre ancora di più la platea di quelli che hanno questo piccolo beneficio fiscale. La sintesi di questo decreto fiscale è lasciamo perdere cose relativamente positive sulla CIG, lasciamo perdere diciamo il resto del decreto, ma per gli autonomi dal punto di vista fiscale vale zero se non un rinvio o di un mese o di due mesi. Rinvio utile ma voglio dire non definitivo rispetto al mercato che si è perso e per gli autonomi una parte di loro avrà 600 euro, una grandissima parte un calcio nel sedere. Insomma non mi sembra risolutivo e soprattutto il principio è sempre quello, il fisco c'è sempre il coltello dalla parte del manico e voi ne subite le conseguenze.